Buongiorno ragazzi, con questa lezione continuiamo a parlare della decolonizzazione, cioè del processo che abbiamo visto, iniziato dopo la fine della seconda guerra mondiale, abbiamo analizzato in particolare il caso dell'India, che riguarda il cosiddetto terzo mondo, adesso sapete cosa significa questa parola e da quale contesto è nata. E quindi analizzeremo un paio di casi ancora, in realtà vi dico tre, quello del Vietnam in generale, soltanto come panoramica l'Indonesia e l'Indocina, il caso di Cuba e ricorderemo quello del Sudafrica, di cui comunque abbiamo già ampiamente parlato occupandoci di questo stato in geografia. E quindi insomma vedremo come, mentre in India, nonostante fossero naturalmente episodi drammatici, la figura di Gandhi, nonostante le iniziali difficoltà, è riuscita a portare il paese all'indipendenza senza vere e proprie guerre, lo stesso non si può dire per altri casi. Andiamo alla pagina 285 del libro. Il primo paragrafo vi presenta in generale quella che era la situazione dell'Indocina. Abbiamo appena iniziato a studiare l'Asia in geografia, quindi diciamo che questa cosa un po' ci può aiutare a localizzare gli stati di cui parleremo anche in storia, quindi cercate di fare sempre un collegamento, anche solo per la vostra cultura generale, per sapere localizzare i fatti di cui ci occupiamo. Allora, seguendo il vostro testo, il vostro libro vi dice che nell'area dell'Indocina, e quindi ci riferiamo a questa parte, quindi alla penisola a sud della Cina, e diciamo tutta poi la zona dell'Indonesia che è insulare, composta da isole e arcipelaghi. Ecco, in tutte queste zone, gli anni 50 furono anni in cui si ottennero, una dopo l'altra, le autonomie di stati che erano stati sino con il momento delle colonie. In particolare, colonie della Gran Bretagna erano la Birmania, quella che oggi si chiama Myanmar, che vedete qui, il Silon, e cioè l'isola, la grande isola a sud-est dell'India, che è l'attuale Sri Lanka, che ottengono appunto entrambi l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Era colonia della Gran Bretagna anche la Malaisia, che qui vedete in verde, che anche sta diventando indipendente all'inizio degli anni 60, mentre era una colonia olandese l'Indonesia. Pure essa ritrova l'autonomia e l'indipendenza nel 49. Con le dati in realtà non le dovete sapere, studieremo quelle dei casi che ora vi presento, ma, giusto per avere un'idea, insomma, tra l'inizio degli anni 50 e i primi anni degli anni 60, anche nell'area indocinese e indonesiana si raggiungono indipendenze da parte di quelle che erano ex colonie europee. Questi stati che abbiamo citato ottennerono indipendenza senza situazioni particolarmente drammatiche. Molto diverso fu invece il caso della penisola indocinese, e cioè degli stati di Vietnam, Cambogia e Laos. Noi in particolare ci occuperemo del caso del Vietnam, ma anche Laos e Cambogia purtroppo furono insanguinate da situazioni veramente estreme. Come il vostro libro ricorda, erano tutte e tre colonie francesi, che durante la Seconda Guerra Mondiale erano state occupate dai giapponesi, finita la guerra, premono per avere l'indipendenza, non vogliono tornare di nuovo sotto la Francia. Questo inizialmente non viene concesso e quindi proprio nel 1945 inizia quella che viene chiamata Guerra d'Indocina, cioè l'insieme di conflitti molto violenti che in tutti questi tre stati oppongono i movimenti anticolonialisti che sono nati spontaneamente sul territorio alle truppe francesi, che invece vogliono mantenere il contorno di questi stati. Noi, come vi dicevo, ci concentreremo subito sul Vietnam, che è giusto per localizzarlo nella penisola indocinese, vedete lo strato più stretto e allungato che troviamo sulla costa est. In Vietnam, nel 1954, i francesi vengono sconfitti dall'esercito anticolonialista locale, che si chiamava Lega Patriotica per l'Indipendenza del Vietnam, e che era guidato dal leader dei comunisti Ho Chi Minh, che qui vediamo in una fotografia. A questo punto, nel 1954, la Francia sconfitta è costretta a concedere e riconoscere l'indipendenza a tutti e tre i paesi, quindi a Vietnam, ma anche a Cambogia e Laos, solo che il caso del Vietnam è più complesso. Infatti, nello stesso 1954, viene stabilito che il Vietnam è sindipendente, ma che viene diviso in due parti, il confine si trova sul diciassettesimo parallelo, Vietnam del nord e Vietnam del sud, in attesa di una prossima elezione che viene prevista e in base alla quale, secondo i piani, avrebbe dovuto avvenire l'unificazione di due paesi. Certo è che in questi due paesi si creano due regimi politici completamente diversi, mentre nel nord, da cui era mossa poi la guida di Ho Chi Minh, viene stabilita, creata, una repubblica comunista, la cui capitale è la città di Hanoi, nel sud viene formata una repubblica con capitale Saigon, che viene sostenuta prima dalla Francia e poi dagli Stati Uniti, quindi una repubblica decisamente anticomunista nella sua stessa fondazione. Il problema è che le elezioni che erano state previste non si tengono e in particolare, a seguito di questa mancanza di unificazione del paese, le forze che erano presenti nel sud e che erano simpatizzanti comuniste, che comunque in generale le forze di opposizione a questa repubblica filo-occidentale che si era formata in questa parte del paese, iniziano ad avviare una vera e propria guerriglia di resistenza. Ecco, si creano dei gruppi partigiani comunisti chiamati Viet Cong. I Viet Cong, quindi non confondetemi, sono dei guerrieri, dei partigiani sud-vietnamiti, quindi agiscono nel Vietnam del sud, sostenuti dalla fede politica comunista e naturalmente dal Vietnam del nord, che era uno Stato a sé, visto che a questo punto i due Stati non si erano riunificati. Qui vediamo un'altra immagine dei Viet Cong. La situazione diventa estremamente drammatica perché a un certo punto, nel 1964, gli Stati Uniti decidono di intervenire in guerra per fermare l'azione dei Viet Cong, quindi a fianco del Vietnam del sud. Voi capite che naturalmente questa decisione degli Stati Uniti ha proprio le radici nella guerra fredda, e quindi nell'opposizione al comunismo e all'idea della diffusione del comunismo. Gli Stati Uniti si impegnarono moltissimo in questa guerra, mandarono armamenti estremamente moderni, un numero spropositato di soldati, però dobbiamo ricordare che questa guerra negli stessi Stati Uniti e poi in generale in tutto il mondo ebbe molte opposizioni. Molto presto l'opinione pubblica scese in piazza, qui vediamo alcune foto degli Stati Uniti di quegli anni, che ce lo dimostrano contro la guerra. E questo per vari motivi, naturalmente innanzitutto bisogna dire che comunque il governo del Vietnam del sud era un regime autoritario, non era una repubblica propriamente democratica, piuttosto violenta, piuttosto corrotta. Inoltre i Viet Cong erano sostenuti dalla popolazione locale, quindi vuol dire che c'era un disagio interno al paese, che comunque non poteva essere classificato semplicemente come lotta del capitalismo contro il comunismo. E infatti molti di coloro che erano contro la guerra del Vietnam sostenevano che di fatti questo fosse un conflitto che riguardava il popolo vietnamita e che quindi gli Stati Uniti non avessero motivi validi per intervenire. Qui vediamo un'altra immagine delle tante mobilitazioni spontanee contro la guerra del Vietnam di quegli anni. La guerra durò quasi dieci anni, iniziò nel 1964 e finì nel 1973, definitivamente addirittura nel 1975. Fu una guerra veramente spietata, in cui morirono moltissimi civili, anche perché gli Stati Uniti iniziarono con bombardamenti, diciamo veramente senza limiti, non riuscirono comunque ad avere la meglio sui Viet Cong, quindi queste operazioni cominciarono ad essere il più possibile efferate ma senza risultati. Ci furono naturalmente molte vittime anche dall'altro campo. Insomma, a un certo punto nel 1973, sia perché le sconfitte continuarono ad accumularsi, sia perché l'opinione pubblica continuava la protesta, gli Stati Uniti decisero di uscire dal conflitto. Il Vietnam, che aveva quindi a questo punto vinto la guerra, divenne appunto un unico Stato indipendente con un governo comunista. Lo è tuttora, un paese comunista, qui vedete una carta con i confini attuali del Vietnam, la capitale è sempre a noi, mentre la città che era stata Saigon, capitale del Vietnam del Sud, che era poi stata conquistata dalle truppe dei Viet Cong, ha cambiato il nome, oggi si chiama Ho Chi Minh City, naturalmente in omaggio a Ho Chi Minh. Ci alziamo ragazzi alla pagina 291, di cui vi lascio per lo studio, che potete fare in autonomia, visto che ne abbiamo già parlato in geografia, soltanto il primo paragrafo, quello che riguarda il Sud Africa. Ricordiamoci che sono questi gli anni, di fatto poi gli anni 60, in cui anche il Sud Africa si libera dal colonialismo, che era stato inizialmente Boero, Boeri è il nome che si dà alla popolazione di origine europea, quindi i discendenti dei coloni olandesi, che erano stati i primi coloni del Sud Africa e poi inglese. Ecco, sono gli anni in cui si sviluppa la lotta all'apartheid, guidata, come sapete, da Nelson Mandela. Ricordatevi la data, 1994, che sarà la data in cui Sud Africa, finalmente, dopo la pressione dell'opinione pubblica, le lotte anche a grandi rischio personale, che chi era contro l'apartheid, contro la discriminazione dei neri, rispetto alla minoranza bianca, portò avanti, si ottennero finalmente delle libere elezioni. Il primo presidente sarà Nelson Mandela, che aveva tanto lottato per questo e che rimase in carica per cinque anni, fino al 1999, Mandela è morto nel 2013, e da quel momento, insomma, per la prima volta, le persone di colore poterono votare e cominciare a partecipare alla vita politica dello Stato. Quindi ricordatevi che anche il Sud Africa si colloca in questo momento storico di decolonizzazione di cui stiamo parlando. Vorrei concludere la lezione con il caso di Cuba, la pagina 293. Infatti, non solo l'Asia e tante terre asiatiche, ma anche l'America Latina era stata a lungo, lo sapete, colonia europea di vari paesi, inizialmente Spagna e Portogallo. Poi, naturalmente, già con la fine dell'Ottocento, a Spagna e Portogallo erano subentrati sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna, soprattutto per ragioni economiche, quindi interferivano pesantemente nella vita sia economica che politica dei paesi del Sud America, che da sempre avevano avuto grande instabilità. Emblematico è il caso di Cuba, che qui vediamo la grande isola caraibica a largo dell'America centrale, nella quale era, dopo la Seconda Guerra Mondiale, stata instaurata una dittatura guidata da un generale, Fulgenzio Battista, che era sostenuto dagli Stati Uniti, una dittatura militare di destra, come potete immaginare, e qui vediamo alcune foto di Battista. Il regime di Battista viene rovesciato a seguito di una rivoluzione, di una guerriglia portata avanti, completata nel 1958, da due personaggi, l'avvocato Fidel Castro e lo studente di medicina Ernesto Guevara, Ernesto C. Guevara, così soprannominato. Qui vedete Fidel Castro ai tempi, e qui non immagine più recente, è morto nel 2016 e era rivenuto poi il capo politico di Cuba. E qui invece una famosa immagine di Ernesto Guevara, che di fatto aveva, prima di impegnarsi nella lotta politica con Castro, attraversato in motocicletta vari paesi dell'America Latina e aveva conosciuto direttamente le ingiustizie sociali e politiche che qui si verificavano, e quindi si era convinto a spendersi in prima persona per la lotta politica. Tant'è vero che dopo l'esperienza di Cuba, lui si impegnerà in Africa e in Bolivia verrà catturato e ucciso. Ecco la parte sulla vita di Guevara sulla pagina 293, ve la lascio naturalmente da studiare. Forse voi più nota questa immagine che è diventata un po' iconica, insomma, magliette, poster, è diventato un po' un simbolo. Qui è una foto che li ritrae insieme. Dopo la vittoria di Castro e Che Guevara, che appunto erano via via risaliti nel corso dell'anno 58 e 59, stino ad arrivare alla capitale, Lavana, gli Stati Uniti, che comunque avevano interessi economici forti a Cuba, decidono di tentare di stroncare questa rivoluzione sbarcando nel 61, qui vedete la freccia blu, nella Baia dei Porci, che è appunto un'insenatura che si trova nella parte occidentale dell'isola. Questo tentativo fallì, quindi fu controllato dalle forze rivoluzionarie e in reazione l'USA imposero l'embargo a Cuba. Che cos'è l'embargo? L'embargo è un blocco su tutte le attività commerciali allo scopo di naturalmente creare un gravissimo danno all'economia dello Stato. Per rispondere a questo, Fidel Castro chiede l'alleanza con l'Unione Sovietica, che decide di portare sull'isola delle basi missilistiche, cioè di installare dei missili puntati contro gli Stati Uniti. Siamo a un passo dal possibile scoppio di una guerra, quindi infatti questa è chiamata crisi dei missili di Cuba e interessò l'anno 1962. Fortunatamente però questo non avvenne, perché si arrivò comunque dopo una dura reazione degli Stati Uniti a smantellare queste basi missilistiche e di fatto la crisi rientrò. Certo è, come vi ricordo anche il vostro libro, che la situazione di Cuba non è mai definitivamente conclusa, nel senso che questo isolamento economico la danneggiò profondamente, quindi dal punto di vista economico resta un paese molto povero. C'è stata una distensione negli ultimi anni, soprattutto durante la presidenza di Obama, per cui nel 2014 Stati Uniti e Cuba hanno avviato una ripresa delle operazioni dei rapporti diplomatici, anche se ultimamente con la presidenza di Trump c'è stata un'inversione di rotta. A questo proposito vi lascio da leggere e anche poi da studiare la pagina 295, sulla quale c'è questo aggiornamento sulla situazione cubana e sui rapporti tra Cuba e Stati Uniti, oggi tenendo conto che l'ultimo riferimento a Trump qui non è presente. Per il momento vi saluto alla prossima lezione. Ciao!